Il sindaco di Taranto Melucci ha visitato il presidio degli autotrasportatori di Casa Artigiani davanti alla portineria C di Acciaierie d'Italia. La protesta continua. E' tutto sotto controllo, ci sarà il regolare proseguimento dell'attività amministrativa, ha spiegato il vice sindaco di Erche Giuseppe Polito, a seguito del terremoto giudiziario che ha colpito la politica del paese. Intanto il pensiero dei cittadini si spacca. E' stata dichiarata la morte cerebrale per la bambina salentina di 6 anni in coma dal 6 gennaio per uno shock settico. Nonostante la volontà dei genitori di procedere alla donazione degli organi, la malattia infettiva di probabile natura batterica non lo ha consentito. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Benvenuti a questa edizione interprovinciale dei telegiornali di Taranto, Brindisi e Lecce. Oggi in via del tutto eccezionale per lasciare spazio a partire dalle ore 15 al recupero della match di Serie D fra Manfredonia e Martina Franca. Avete sentito dai titoli i principali argomenti di questa edizione. Partiamo con le questioni che riguardano l'exilva perché il sindaco di Taranto Melucci ha visitato il presidio dell'autotrasportatore di Casa Artigiani davanti alla portineria C di Acciaieria d'Italia. La protesta nel frattempo continua. Sentiamo. Il presidio davanti alla portineria C dell'exilva continuerà. Gli autotrasportatori di Casa Artigiani non si muoveranno fino al momento in cui Acciaieria d'Italia non pagherà le fatture scadute. Lo ribadisce la segretaria regionale dell'organizzazione Stefano Castronuovo dopo la visita del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Casa Artigiani Puglia chiede al primo cittadino di creare nella sua qualità di presidente della provincia una fronte comune dei sindaci di Terra Ionica per sostenere la battaglia dei lavoratori. Abbiamo chiesto al sindaco di fare fronte comune, fare fronte comune con i sindaci della provincia, fare fronte comune tutti insieme per chiedere quello che è il diritto degli autotrasportatori ovvero essere pagati per i servizi fatti. E noi saremo lì finché Acciaieria d'Italia non pagherà quanto è il dovuto e quanto lo scaduto degli autotrasportatori. Melucci dal canto suo ribadisce la sua sfiducia nei confronti di ArcelorMittal, punterebbe sulle imprese italiane del settore, evidenzia la necessità che si trovino subito i soldi per gli autotrasportatori. Evidentemente oggi ha dimostrato ArcelorMittal di non essere l'operatore interessato a fare la decarbonizzazione nel perimetro delle regole europee. ArcelorMittal ha dimostrato di avere l'interesse a tenere ferme le quote di produzione di acciaio italiano, a non migliorare le tecnologie dell'acciaio italiano perché così investe evidentemente a condizioni fiscali anche di maggior vantaggio. L'urgenza sono le risorse per l'indotto, per l'autotrasporto perché qui si ferma una città e poi le implicazioni sociali sono imprevedibili. E intanto il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, ha incontrato a Roma il ministro delle imprese Adolfo Urso al centro del colloquio e la crisi aziendale della siderurgia tarantina. Urso ha confermato che il ricorso all'amministrazione straordinaria a tempo per acciaieria d'Italia è una delle ipotesi al vaglio. Toma ha poi stigmatizzato la comunicazione di Banca IFIS che ha sospeso il prosoluto aggiungendo che se lo Stato dovesse prendere la strada dell'amministrazione straordinaria momentanea che non si ripetano le problematiche vissute nel 2015. Il ministro ha replicato che se dovesse essere fatta la scelta dell'amministrazione straordinaria si penseranno tutte le tutele per le imprese dell'indotto. Toma ha infine annunciato all'Agenzia Italia che a breve, forse già a partire dalla prossima settimana, Urso potrebbe essere a Taranto. Nel frattempo sono in cassa integrazione 2.500 lavoratori, l'ammortizzatore sociale è partito il 1 gennaio. Al via per i lavoratori dell'ex ILVA, stabilimento di Taranto, la cassa integrazione è la stretta sul credito e l'indotto. Per la cassa straordinaria, il sindacato Unione Sindacale di Base ha comunicato che nelle scorse ore Acciaierie d'Italia ha inoltrato alle sigle metalmeccaniche la lettera che avvia la procedura per il nuovo anno di sospensione dal lavoro dall'1 gennaio scorso alla luce della proroga disposta dal governo. La cassa integrazione è già in atto in Acciaierie d'Italia dal 2023 che si è chiuso con 3.000 detti sospesi temporaneamente dal lavoro di cui 2.500 soltanto dello stabilimento di Taranto dove i dipendenti sono complessivamente poco più di 8.000. Per il credito vantato dalle ditte dell'indotto, AIG, l'associazione che raggruppa molte imprese che lavorano nell'ex ILVA, fa sapere che la banca individuata dalla società siderurgica ha inviato nelle scorse ore una comunicazione allo stesso indotto specificando che l'Istituto di Credito ha preso atto della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio scorso in cui si rende noto l'indisponibilità di Arcelor Mittal ad assumere impegni finanziari e di investimento nemmeno come socio di minoranza di Acciaierie d'Italia. C'è quindi il rischio di non continuità aziendale, si legge nella lettera che la banca ha inviato alle aziende dell'indotto. Nella frattempo c'è un'altra questione perché i carabinieri del nucleo operativo ed ecologico di Lecce si sono recati negli uffici e nelle sedi dello stabilimento siderurgico di Taranto per dare seguito ad un ordine di acquisizione di documenti relativi alle emissioni, in particolare in zona cocherie rispetto alla benzene che è stato disposto dai pubblici ministeri Mariano Buccoliero e Francesco Ciardo. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. L'iniziativa rientra, quanto si apprende, nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza i reati di inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose negli ultimi mesi, sono stati registrati diversi picchi periodici di benzene segnalati da Arpa Puglia, anche se non è stato superato il valore soglia fissato dalla norma. Cambiamo argomento ma restiamo a Taranto perché dopo la nomina della nuova giunta il sindaco Rinaldo Melucci tira dritto, non ha paura della mancato sostegno dei partiti, non teme di tornare a casa, ma il PD lo boccia ancora una volta. Siamo stati eletti e siamo al servizio per realizzare un programma che non è mai cambiato, della massaia dei tamburi, dell'operaio di Polo Sesto, della studentessa di Lama, questo faremo noi, il resto, guarda, non ci interessa più. Chi vuole continuare su questo gossip politico lo facesse da solo, grazie. Fino avanti per la sua strada, quasi sollevato per il fatto di non dover più rendere conto i partiti di maggioranza delle sue scelte. Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, prosegue il suo cammino senza preoccuparsi troppo. Continueremo a lavorare, dice, finché ce lo consentiranno, consapevole dei numeri di una maggioranza risicata, ma convinto di avere una giunta in condizione di poter lavorare al meglio. Esprime una convinzione, i partiti prima o poi torneranno. Per loro ha lasciato due caselle degli assessorati, per ora trattenute per sé. Mi preoccupa che dobbiamo fare le cose per la città, che è una città in trasformazione, stiamo facendo cose importanti da tanti anni e queste cose le abbiamo fatte noi, non è che le hanno fatti i partiti da soli, quindi i partiti torneranno, credo, se vorranno. Se non vorranno tornare, continueremo ad amministrare per la città finché potremo. Nell'ombra molti lavorano per mandarlo a casa, la risposta è secca. Io un lavoro ce l'ho, state tranquilli, grazie. Intanto il PD boccia seccamente la nuova giunta Melucci, basata, dice la segretaria Anna Filippetti, su una contrattazione one to one che riflette un sistema di gestione della cosa pubblica, privo di visione di comunità. I demma sono convintamente all'opposizione, ribadisce e precisa. Il vice sindaco Azzaro è in giunta a titolo personale. È tutto sotto controllo e l'attività amministrativa proseguirà regolarmente, ha spiegato così in esclusiva ai nostri microfoni il vice sindaco di Erche, Giuseppe Polito, a seguito del terremoto giudiziario che ha colpito la politica della paese. Intanto il pensiero dei cittadini si spacca. Sentiamo. È scattata la legge Severino e così il prefetto di Brindisi, Michela Laiacona, ha disposto la sospensione di Pasquale Nicolì dalla carica di sindaco di Erche, stessa sorte per Vito Ronzo Berardi e Pamela Melechi, entrambi sospesi dalle cariche assessorili. Niente panico come per legge prenderò le funzioni del sindaco e l'attività amministrativa di Erche e continuerà, dichiarato in esclusiva ai nostri microfoni, il vice sindaco Giuseppe Polito, a seguito dello scandalo giudiziario che ha colpito la città. Ci sarà un proseguo dell'attività amministrativa secondo i programmi stabiliti nello tempo e che ci eravamo chiaramente programmati. Ai domiciliari c'è il primo cittadino Pasquale Nicolì, l'assessore ai servizi ambientali, lavori pubblici e polizia urbana Ronzo Bernardi, l'assessore Pamela Melechi e l'ex responsabile dell'area tecnico-amministrativa sottoposti a divieto di dimora, contestati a vario titolo i reati di concussione, abuso d'ufficio, atti persecutori e una presunta violenza. La volontà comunque è quella di andare avanti per dare la possibilità, noi siamo convinti della buona fede chiaramente degli indagati, ripeto sono semplicemente indagati e chiaramente avranno la possibilità di esposare le proprie ragioni di fronte chiaramente agli organi inquirenti. E sulla vicenda intanto il pensiero dei cittadini si spacca tra chi è scioccato e chi attende il regolare corso delle indagini. Non è la prima situazione che si sente in questi comuni piccoli. Sinceramente non ce l'aspettavamo da un sindaco così perché durante le elezioni lui ha parlato di legalità. Le persone così fino a che non viene giudicato dalla magistratura è sempre innocente una persona, fino a proprio contrario, per me come ne penso io. Che penso che sono innocente. Andiamo a Lecce, è stata dichiarata la morte cerebrale per la bambina Salentina di 6 anni in coma dal 6 gennaio per uno shock settico, nonostante la volontà dei genitori di procedere alla donazione degli organi. La malattia infettiva di probabile natura batterica non lo ha consentito. Non ce l'ha fatta la bimba di 6 anni ricoverata da 3 giorni a causa di uno shock settico presso il dea del Vito Fazzi di Lecce e poi trasferite in rianimazione in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute che minuto dopo minuto diventavano sempre più critiche. Già dal giorno precedente i parametri della bimba erano peggiorati, monitorati con attenzione e diligenza dal personale sanitario del Fazzi che aveva disposto per la piccola una fase di osservazione terminata intorno alle ore 17.30 di martedì, quando non era rimasto altro che dichiararne il decesso. La piccola accompagnata dai genitori si era presentata al pronto soccorso nella mattinata dell'epifania per un malore accusato poco prima a seguito del quale aveva perso conoscenza. Si sarebbe trattato della fase acuta di un'infezione che avrebbe intaccato poi le funzionalità degli organi vitali, fino a spegnerla in tenera età. La salma della piccola è stata trasferita nell'obitorio del Fazzi dove resterà a disposizione del medico legale per eventuali e successivi accertamenti. Restiamo nel territorio leccese ma ci spostiamo a Carmiano per la chiusura di un'inchiesta. In 41 rischiano il processo, sono diversi ovviamente i capi d'accusa. Sono arrivate a conclusioni le indagini che hanno coinvolto esponenti di spicco di Carmiano in merito all'esistenza di una presunta associazione mafiosa che si sarebbe occupata di droga, armi, attentati di ramidardi e incendi. Un'inchiesta che ha dimostrato una certa attenzione alla politica locale e anche all'economia legale. Sono in 41 a rischiare il processo. Le indagini si riferiscono a un periodo di 18 mesi che va dal dicembre 2020 al maggio 2022, in cui avrebbe avuto piena operazione una frangia della Sacca Corronunita capeggiata da Fernando Nocera e connessa al clan Tornese Politi di Monteroni. Un'attività che parlerebbe di narcotraffico ma che avrebbe espresso la propria forza di intimidazione, spargendo liquido infiammabile e usando attentati dinamitardi. Nel mirino gli imprenditori per il consueto ragionamento sul racket e sul denaro da riscuotere, ma anche uomini delle forze dell'ordine. Il 6 novembre scorso era scattato il blitz dopo indagini dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina e del nucleo investigativo del reparto operativo di Lecce. Sono stati seguiti 37 arresti, 28 in carcere, 9 ai domiciliari. L'avviso di conclusione è l'indagine firmato dalla PM della DDA di Lecce, Giovanna Cannarile, e dal PM della Procura Ordinaria, Alessandro Prontera. 20 giorni di tempo adesso per presentare memorie o per chiedere di essere interrogati. Dopodiché la Procura deciderà se chiedere il rinvio a giudizio. Incendio a Taurisano all'alba di oggi. Le fiamme hanno completamente distrutto un deposito di fieno. Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute per domare le lingue di fuoco. Dalle prime ore dell'alba di mercoledì un incendio ha interessato un deposito di fieno situato a Taurisano in contrada Marasculi. La scoperta è stata fatta intorno alle ore 6 da alcuni residenti della zona che hanno immediatamente provveduto ad allertare i vigili del fuoco e a mettere a riparo il bestiame che si trovava negli ambienti vicini. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase insieme al supporto con Autobotte inviato dal distaccamento di Gallipoli e i colleghi di Ugento. Questi ultimi si sono alternati in vari turni. Le operazioni di spegnimento infatti si sono protratte per ore. La zona è stata raggiunta anche dagli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza diretto del vicequestore Salvatore Federico che ha avviato le indagini per far luce su quanto accaduto. Dolore e rabbia a Brindisi dopo la morte di una 39enne nell'ospedale di Taranto dopo che per ore per oltre tre ore il paziente con emorragia cerebrale era rimasto bloccato nella pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Morire a 39 anni perché l'ospedale Perrino di Brindisi, uno di quelli che dovrebbe essere all'avanguardia in Puglia, è privo di una figura fondamentale come quella del radiologo interventista, ossia lo specialista che deve affiancare il neurochirurgo negli interventi d'urgenza. Antonio Picciolo probabilmente è morto per le oltre tre ore trascorse al pronto soccorso del Perrino prima di essere trasferito in ambulanza con una emorragia cerebrale in corso all'ospedale Santissima Annunziata in condizioni talmente gravi che non è stato possibile neanche portarlo in sala operatoria. Il deputato Brindisino Mauro Dattis ha chiesto al governo che vengano inviati gli ispettori e il consigliere regionale Fabiano Amati che si è istituita immediatamente azienda zero per razionalizzare il personale ma ciò che emerge è che da anni incredibilmente al Perrino manca una figura fondamentale in una struttura sanitaria. Già dal 2017 la presenza del radiologo interventista venne ridimensionata e utilizzata solo dalle otto del mattino alle otto di sera negli anni successivi è definitivamente scomparsa con conseguenze drammatiche per i ritardi con cui i pazienti in condizioni gravissime vengono spediti in ambulanza verso altri ospedali in situazioni in cui più che i minuti i secondi sono preziosi. Antonio Picciolo dopo un malore avvertito in un locale da ballo di San Pietro Vernotico ed essere stato soccorso da un'ambulanza è salito con le sue gambe sulla barella quando è giunto al Perrino pienamente cosciente e vigile. Era l'una e quindici di venerdì notte solo alle quattro e trenta è stato avviato il trasferimento a Taranto dove è arrivato intorno alle cinque del mattino ormai in coma irreversibile. Era sposato e padre di due bambini di 12 e 5 anni. Il rione Paradiso dove abitava ed era amatissimo è sotto shock, funerali nella chiesa del quartiere. Sono 16 le salme ultra decennali senza nome che sono state scoperte nel cimitero di Manduria. Il rapporto shock presentato dalla comune messapico dagli addetti ai servizi cimiteriali. 16 salme senza generalità accade qui nel cimitero di Manduria. Si tratta di tumulazioni ultra decennali senza foto, senza un nome sulle lapidi. Non c'è più memoria per 16 manduriani almeno stando al rapporto presentato al comune dagli addetti al servizio cimiteriale messapico per far posto a nuove sepolture. Nelle 190 tombe da sgomberare perché occupate da più di 10 anni, 16 risulterebbero ignote, prive di identità. A prevederlo è il regolamento prima del disappellimento, ma per il 10% di queste non risulterebbero tracce. Il destino dei senza nome sarà quello probabilmente dell'ossario comune. Un serio problema per l'amministrazione di Manduria, priva di un archivio completo e aggiornato del cimitero. Dilemma che si aggiunge a quello della mancanza dei loculi. Intanto il sindaco Pecoraro ha firmato l'ordinanza per avvertire parenti ultra decennali che entro 60 giorni si procederà alle esumazioni. In fondo la soluzione ci sarebbe per avere un archivio completo, ossia quella di sfruttare la tecnologia, mappe interattive, QR per avere la localizzazione e la generalità dei defunti come accade già in altri comuni più aggiornati. è stata già transennata la zona di costa Morena Est a Brindisi. Edison è pronta ad iniziare i lavori per la realizzazione del deposito GNL, ma spunta un documento dell'amministrazione comunale che potrebbe bloccare tutto, secondo il quale per cantierizzare in quella zona c'è bisogno della parere della soprintendenza. La zona sembra già transennata da queste foto in nostro possesso. Edison dunque sarebbe pronta a cantierizzare l'area per la realizzazione del deposito GNL. A Brindisi non si placano le polemiche, come è noto il Consiglio Comunale aveva richiesto al Governo di rivedere l'itera autorizzativo, richiesta però rispedita al mittente, ma spunta un documento secondo il quale in quell'area non si può avviare un cantiere senza il parere favorevole della soprintendenza. Se questo parere a ieri non mi risultava pervenuto, quindi se hanno iniziato dei lavori, hanno iniziato dei lavori, nonostante questo di niego. Credo che il Comune e la Polizia Locale dovrebbero accertare cosa sta facendo Edison. Questo è il documento del Comune di Brindisi, col quale si richiede il parere, vedete, è specificato all'interno, si richiede il parere di competenza alla soprintendenza a belle arti e paesaggio ai sensi dell'articolo 146,8 del decreto legislativo 42-2004. Attraverso questo documento il Comune potrebbe chiedere la sospensione dei lavori. I dubbi restano e sono tanti, secondo Fusco, così come le anomalie in questa vicenda. Ancora più grave, nell'autorizzazione ministeriale dell'agosto 2022, il Ministero non ha assolutamente parlato, che pendeva agli atti la richiesta della società Brundisium di un impianto di un deposito di 40.000 tonnellate di petrolio, proprio lì a Costa Morena, in adiacenza. e la richiesta che è stata autorizzata, abbiamo acquisito il provvedimento, il 22 febbraio 2023, dallo stesso Ministero dell'Ambiente. Ora, la direttiva Seveso impone che quando si fa una valutazione degli impianti ad alto rischio di incidente rilevante, nell'istruttoria occorre valutare quello che c'è a fianco. Un terminal per gli autobus nell'ex collegio Tommaseo a Brindisi è la soluzione individuata dall'amministrazione comunale per provare a risolvere il problema del traffico nei quartieri Casale e Materdomini, soprattutto al momento dell'uscita da scuola degli studenti delle scuole superiori che si trovano proprio in questa zona. Nell'arco di un'ora e mezza veicolano circa 62 pullman la mattina lì in transito tra urbani, extraurbani e delle ferrovie sud-est che trasportano circa 3.000 ragazzi da fuori provincia, ma anche col trasporto pubblico locale e urbano dal centro alle scuole del Casale. Potete immaginare il problema che si viene a creare ogni mattina lì. Un nuovo parcheggio da ricavare nell'ex collegio Tommaseo per gli autobus, il principale motivo degli ingorghi, per provare a snellire il traffico che puntualmente ogni mattina, praticamente da sempre, paralizza le strade dei quartieri Casale e Materdomini di Brindisi dove insistono quasi tutte le scuole della città. I cittadini sono esasperati, ce ne siamo occupati tante volte nei nostri telegiornali e allora adesso l'amministrazione comunale prova a correre così ai ripari. Noi abbiamo ipotizzato di questo terminal bus di sosta temporanea in quella fascia oraria, mettere in sicurezza sicuramente quasi 3.000 ragazzi che devono andare a scuola e decongestionare quel tratto di strada che vada via Benedetto Brin, via Nicola Brandi, la rotatoria che scende più giù per via Ciciriello, individuando nell'area parcheggio dell'ex Tomaseo. Questa è via Benedetto Brin ed è una delle arterie che rappresentano l'incubo dei residenti dei rioni Casale e Materdomini in particolare e questa è l'area parcheggio del collegio Tomaseo che una volta adibita, attrezzata e rivisitata potrebbe rappresentare la soluzione a questo problema del traffico perché diventerebbe un grande parcheggio per tutti i mezzi pesanti e in particolare i pullman. Andiamo in giunta con l'approvazione e dovremmo riuscire, ci auguriamo entro l'inizio del prossimo anno scolastico, noi ci auguriamo anche prima di avere a disposizione una soluzione definitiva. Il 2023 è stato un pessimo anno per la libera informazione, questo emergerebbe dai dati dell'organismo Ossigeno per l'informazione che monitora in Italia i casi di minacce ai giornalisti. Nell'elenco anche due giornalisti pugliesi, uno del territorio tarantino. Ci sono anche due pugliesi tra i 130 giornalisti, operatori dei media e blogger che hanno subito minacce nel 2023 a dirlo e l'elenco presentato annualmente da Ossigeno per l'informazione. L'organismo che puntualmente monitora e aggiorna i casi di minacce verbali, fisiche e giudiziarie ad opera di privati, istituzioni pubbliche e criminalità. C'è il giornalista Massimiliano Scagliarini della Gazzetta del Mezzogiorno, querelato per aver raccontato nel 2019 alcune indagini per corruzione avviate dalla Procura di Lecce sull'ex sostituto procuratore Domenico Angelo Raffaele Secci, articoli ritenuti non diffamatori per la GIP di Bari Susanna De Felice. Ho solo riportato i fatti sulle indagini, si è difeso il giornalista sul portale Ossigeno, ancora Nazareno di noi nel Tarantino, giornalista e direttore della Voce di Manduria che dopo cinque anni e numerose udienze dai tribunali di Taranto e Bari è stato assolto dall'accusa di aver diffamato l'ex sindaco di Torricella Michele Schifone e un dirigente dello stesso comune. Per i giudici Laura Orlando da Taranto e Domenico Mascolo di Bari, il direttore della Voce di Manduria non ha commesso il fatto. Il fatto non sussiste. Il 2023 è stato dunque un anno pessimo per la libera informazione in Italia, 7.000 sono in tutto i giornalisti minacciati, 24% delle donne con bersaglio di minacce di genere. L'Italia è il paese europeo con più giornalisti minacciati, un serio problema irrisolto che merita più attenzione. A Bari il sindacato Cobas si incontra alla regione sulle vertenze degli ex lavoratori Nubile e Dema. Impianti per lo smaltimento rifiuti e futuro dei lavoratori Dema. Sono queste le due vertenze affrontate in regione con il sindacato Cobas che ha voluto dei chiarimenti con quello più preoccupante relativo all'impiantistica di smaltimento dei rifiuti e in particolare agli ex lavoratori Nubile e poi con una piccola speranza e invece la vertenza Dema con un possibile cambio di proprietà che potrebbe dare delle speranze di sviluppo futuro nei prossimi mesi. Nasce una nuova compagnia, l'Agenzia dei rifiuti regionale insieme all'Acquedotto Pugliese dovranno gestire i rifiuti in Puglia, cosa che sta portando ulteriori ritardi alla realizzazione degli impianti Brindisini. Noi abbiamo affermato al Presidente dell'Ager, Angelo Vanzini, che non sopportiamo questa situazione di estremi ritardi sommata a quello che è avvenuto in città nel corso degli anni e all'attuale anche gestione, effetto collaterale, della gestione degli impianti camion che devono partire la mattina presto, ritornare la sera tardi perché non possono essere portati in un impianto di compostaggio a Brindisi così come normalmente dovrebbe avvenire. Il gruppo Dema di fatto è in fallimento, il Comitato dei creditori approva un nuovo piano industriale in cui si presenta qualcuno che dice prendo tutto il gruppo Dema e dovrebbe rilanciare sostanzialmente la produzione. Sembra che hanno acquisito anche nuovi lavori che però per difficoltà economiche non riescono a gestire al meglio. Se ci fosse un nuovo acquirente che avesse quella liquidità fortemente disponibile, certamente alcuni o molti di DCM che sono rimasti fuori dal circuito produttivo potrebbero rientrare. Ci spostiamo nel territorio leccese per fare il bilancio dell'attività svolta dall'amministrazione provinciale. Bilancio che è stato approvato, quello di previsione, senza disavanzo. E' una notizia positiva per la provincia di Lecce. La gestione dei conti con azzeramento del disavanzo è un segnale di responsabilità finanziaria da parte dei sindaci. Nella seduta delle scorse ore, l'Assemblea dei sindaci della provincia di Lecce è stato approvato all'unanimità il parere sugli schemi di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024-2026, un lavoro costante che ha permesso in questi anni di ottenere risultati importanti per il Salento. Il bilancio di previsione 2024-2026 è stato già adottato in prima lettura il 28 dicembre scorso dal Consiglio provinciale per la prima volta dopo circa 20 anni entro la scadenza prevista e senza la previsione del disavanzo da ripianare. Un risultato storico sul quale si è soffermato proprio il Presidente Minerva nel suo intervento. È stata confermata dal Ministero della Cultura la nomina del Brindisino Carmelo Grassi come componente della Commissione Teatro. Un importante riconoscimento non solo per Carmelo Grassi come uomo di cultura e imprenditore ma come rappresentante del territorio pugliese e Brindisino confermato per un altro triennio quale componente della Commissione Consultiva Teatro del Ministero della Cultura, l'organo che svolge funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative riguardanti le richieste di contributo nel settore della prosa. Un momento sicuramente importante per quanto riguarda la ripresa del teatro e del movimento culturale con la Puglia che si conferma trainante in questo settore. Noi decidiamo praticamente della sorta di tanti, di centinaia di organismi teatrali e quindi ovviamente sento tutta la responsabilità ma è anche una bella grande soddisfazione per me e per la mia città e per la mia regione per portare insomma anche la nostra esperienza direttamente. Nello scorso anno, o meglio nello scorso triennio noi abbiamo riconosciuto molti organismi in più e quindi adesso la scommessa è mantenerli naturalmente riconosciuti e finanziati dal Ministero sperando che ci siano le risorse disponibili per poter fare questo e mantenere lo status quo. Diciamo che il periodo post-pandemico è stato un momento molto difficile, ancora oggi abbiamo dei risultati negativi di cui risentiamo, però c'è sicuramente stato un cambio. Sono molti giovani anche artisti che si impegnano e che in qualche modo poi portano i giovani a teatro che poi è la nostra missione. La Puglia oramai è un esempio per tutti sia dal punto di vista teatrale che cinematografico e quindi è assolutamente importante mantenere questa posizione da leader. E tutto per quanto riguarda questa edizione interprovinciale del nostro telegiornale lo ripetiamo giustificata dal fatto che alle 15 su questo canale, sulla 14, sarà trasmesso il match Manfredonia Martina, campionato di Serie D e un recupero. Grazie per essere stati con noi e arrivederci e buon proseguimento di serata.